Preparazione marinatura 450 grammi salama cruda In una teglia metto uno spicchio d'aglio Pepe nero quanto basta 500 millilitri vino barolo 20 millilitri olio d'oliva extravergine Salvia e rosmarino quanto basta A questo appunto aggiungo alla marinatura Le fette crude di salama Copro la pirofila con della pellicola da cucina E lascio marinare per tre ore fuori dal frigo Passate le tre ore di marinatura Cuocio la salama cruda sulla piastra rovente E lascio marinare per tre ore fuori dal frigo Un pizzico di sale fino su ogni fetta di salama cruda e alcuni cucchiai di marinatura La cottura della salama cruda è di 5 minuti perlato a fiamma alta con piastra rovente Passati 5 minuti Passati 5 minuti di cottura del lato giro le fette di salama E aggiungo nuovamente alcuni cucchiai di marinatura Passati 5 minuti di USDA Passati 6 minuti di Arbeit Passati 5 minuti di temperatura Passati 5 minuti di lavorare perlato Bilo Appena tolte dalla piastra servire calde